Tra i partecipanti al convegno ASSIV sul nuovo codice dei contratti pubblici, l'avvocato Monica Cassi, General Counsel di Axitea S.p.A. Quali le novità particolarmente interessanti del nuovo codice dei contratti pubblici per un'impresa che si occupa di sicurezza integrata? Allora, certamente questo nuovo codice porterà degli impatti importanti per quello che riguarda la nostra azienda e anche in generale per quello che riguarda tutte le aziende del settore, soprattutto a mio parere su due aspetti particolari del codice, in particolare il tema del subappalto, in quanto è stato praticamente abolito il famigerato divieto del subappalto a cascata e questo comporterà ovviamente per le aziende del nostro settore il fatto di poter affidare anche a cascata affidamenti che fino ad oggi si sono fermati solo al primo livello di subappalto, essendo da sempre stato negato la possibilità di fare ulteriori passaggi e in realtà anche il tema dei raggruppamenti di impresa, altrimenti i detti ati, in quanto nel nuovo codice appalto in vigore del primo luglio la costituzione dell'ati avrà certamente meno paletti rispetto a quelli attuali, non essendo più la distinzione fra orizzontale e verticale e non essendo più nemmeno la distinzione fra la percentuale di affediamento fra la mandataria e le mandanti. Un ultimo aspetto che secondo me è molto importante che il legislatore abbia disciplinato in maniera concreta e puntuale è quello della revisione prezzi, che è un aspetto che certamente porterà un impatto perché porterà le stazioni appaltanti a dover obbligatoriamente prevedere la clausola della revisione prezzi e in determinati fatti specie. Questi secondo me sono tutti gli aspetti che andranno a impattare fino per quello che ho potuto apprendere anche dalla giornata di oggi in maniera positiva il nostro settore.